Il racconto dell'ultimo grande maestro dello spettacolo italiano attraverso lo sguardo di chi lo ha vissuto dagli esordi la sua vita, la sua storia tutto quello che non sapete e non sapevo Il primo applauso che ha preso mio fratello è stato quando aveva tre anni Una macchina teatrale perfetta Vederlo e anche il suo successo voleva dire che era tutto giusto Un vulcano Non credo di avere la tempra del vivo Era un interprete drammatico che faceva morire dalle risate Dell'uomo Bruglietti, perdonami, faccio ancora fatica a parlare Cosa ha reso quest'uomo così unico? Qual è il suo segreto per far ridere e piangere? Ha accontentato tutti i tipi di pubblico Tutto quello che faccio avevo a Gigi Bruglietti Un grandissimo regista Infallibile Ma se cominci a criticare di pubblico significa che è diventato pubblico Ma è di stagliare da facciare E' un'andrea che viene una calamita Questa si può tagliare Questa è la cosa che ci riuscite Va bene Sì Questa è la cosa che ti riuscite